Damiano Estingi, siamo con l'ultimo rappresentante di Cirecchia prima di Gamboni e del Lungo alle Olimpiadi. Ormai siamo entrati nel vivo dell'evento a 5 cerchi a Rio de Janeiro, tutto è pronto per le gare. Che atmosfera si sta godendo a questo momento a Rio de Janeiro, nel villaggio olimpico? Io credo che con la mia esperienza che ho fatto a Pechino adesso ci sia il momento della concentrazione. Si è entrati nel vivo proprio del villaggio dove i ragazzi si sono trasferiti sicuramente da pochissimi giorni, pochissime ore, addirittura, sicuramente è una giornata speciale perché capisci che se prima l'evento si aspettava adesso è imminente, quindi sicuramente soprattutto per Mattia che magari è più piccolino a 19 anni come ce l'avevo io a Pechino c'è un po' di tensione, però consiglio a tutti e due di stare tranquilli, di godersi l'esperienza e di dare il 100% come sono sicuro che daranno. Tutta la cività vecchia è con loro e l'hanno dimostrato anche con i suoi social, sono sicuro che possano far bene tutti e due. Quindi cosa ti senti di consigliare ai due ragazzi a parte di stare tranquilli, di non pensarci tanto, di non farsi caricare troppo dall'evento? Sì, perché più che altro non è il mondiale un europeo, cioè l'Olimpiadi è una gara a sé, soprattutto quando stai in mezzo al villaggio dove comunque trovi tutti gli altri atleti che possono fare anche altri sport, non è solamente il tuo sport, quindi c'è il rischio che come è successo in passato, che molte persone magari si sentano un po' troppo la pressione. Sono sicuro che io conosco tutte e due, sia Marco che Mattia, sono due ragazzi molto concentrati, molto inquadrati, quindi io consiglio solamente di godersi tutta quell'atmosfera che è un'atmosfera bellissima ed unica. È un'atmosfera che è difficile spiegarla a un estraneo, perché ti dà delle emozioni che fondamentalmente non puoi spiegare. Il fine settimana il nuoto entrerà nel vivo nelle Olimpiadi, ma ci saranno anche gli italiani estivi a Roma, tu parteciperai a questo evento, ci racconti un po' quali sono i tuoi propositi? Sì, ci saranno questi campionati italiani estivi, da domenica a mercoledì ci saranno categoria assoluta e juniores, ovviamente è l'ultima gara della stagione e poi si andrà finalmente in vacanza, ovviamente mi godrò anche le Olimpiadi in TV e niente, credo che parteciperò ai 100 dorsi, ai 200 stile e ai 100 stile. Poi vediamo con Fabio bene quali gare a cui bisogna partecipare, però sto abbastanza bene, poi comunque è l'ultima gara della stagione, nel senso non è un obiettivo principale ovviamente, però ovviamente gareggiando per la Niene è sempre un onore, quindi cercherò di dare il massimo.